il treno suburbano s 5 23 0 0 5 di treno orde proveniente da barese e diretto a treviglio delle ore 5 18 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regio express 53 03 di treno orde proveniente da porto ceresio e diretto a milano porta garibaldi delle ore 6 e 41 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma castronno albizzate solviate arno cavario giovanni rago gallarate legnano paradiago vanzago pogliano roffiera milano il treno suburbano s 5 23 0 0 0 di treno orde proveniente da gallarate e diretto a barese delle ore 6 e 41 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno suburbano s 5 23 0 0 4 di treno orde proveniente da treviglio e diretto a barese delle ore 7 e 41 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno suburbano s 5 23 0 2 5 di treno orde proveniente da barese e diretto a pioltello limito delle ore 9 e 18 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 5 23 0 3 2 di treno orde proveniente da pioltello limito e diretto a barese delle ore 13 e 11 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla in r.v. Grazie a tutti.